La fabbrica di Salerno è stata conquistata dalla radio, nascerà la Digital Radio, Radio Castelluccio, qui grazie appunto al contributo e al lavoro che farà RCS 75. Come nasce questa collaborazione? Sì, è una bellissima collaborazione, una novità ovviamente in Italia, quindi siamo i primi a creare una partnership tra un centro polifunzionale e una radio e nasce per scherzo. Ero con Lucio in Radio Castelluccio e io l'ho buttata lì. Ho detto ma perché non ti trasferisci da noi, facciamo una cosa insieme, una cosa bella che non c'è da nessuna parte. Lucio che è un ragazzo dinamico e sempre un passo avanti rispetto agli altri, ha accettato la sfida e oggi ci siamo qui e stiamo facendo questo progetto insieme. Lucio Rossomando, editore storico di Radio Castelluccio, che cosa rappresenta questo nuovo progetto per voi? Il progetto di RCS 75 è un progetto che nasce da lontano, nasce dalla storia di Radio Castelluccio e dalla storia che noi sul territorio abbiamo sempre cercato di portare avanti, di stare vicino al territorio dell'intera provincia di Salerno partendo dalla Piana del Sele e dalla città di Battipaglia. Ma oggi il territorio è la provincia di Salerno con la digitalizzazione, con la tecnologia, con le nuove forme, le nuove piattaforme digitali. Già da tempo Radio Castelluccio aveva creato un progetto che appunto si chiama RCS 75 Family che vede il mondo della comunicazione a 360 gradi. L'idea che si va a concretizzare è un'idea che parzialmente noi già avevamo e che grazie al sostegno e alla visione perché dobbiamo dire anche questo con Giuseppe Lettieri io sono onorato di stare qui e di soprattutto cercare di portare avanti questo progetto insieme con la fabbrica di Salerno perché è un progetto a cui noi crediamo tantissimo, ci piace tanto. Ci saranno tantissimi progetti anche radiofonici. La digital radio qui nasce alla fabbrica di Salerno con musica, informazione, programmi innovativi. Nasce la digital radio, la fabbrica di Salerno digital radio, quindi la filodiffusione all'interno di tutto la struttura che è un vero e proprio villaggio come definisco sempre io. Non è un centro commerciale ma è un vero e proprio villaggio. La digital radio che ci consentirà di avere il contatto diretto con tutti coloro che ovviamente non solo operano all'interno del centro ma che visitano l'intero villaggio con una maniera dinamica e diversa e quindi tramite la musica, la radio, l'informazione, gli annunci. E poi c'è il progetto di RCS 75 Femmili che il progetto oltre a fare una buona parte di programmi in diretta all'interno della fabbrica di Salerno consentirà di portare avanti il progetto di valorizzazione del territorio e dei prodotti del nostro territorio ma soprattutto del territorio di dare un'occasione e un'opportunità ai giovani. Lo facciamo già da tempo con l'Università degli Studi di Salerno con tante scuole, con tanti istituti professionali e quindi dare il punto di riferimento ai giovani, cercare di fare formazione, cercare di utilizzare la digitalizzazione e la comunicazione in genere sarà tutto questo e tanto tanto altro ancora, spettacolo, cultura, che si andrà a realizzare all'interno della fabbrica di Salerno. La fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri, è un centro innovativo, è un lifestyle center come pochi in Italia e in Europa. Ci sarà intrattenimento, shopping, benessere, sport, tantissime sfide. Sì, è un progetto innovativo, come dicevi, lo chiamiamo Lifestyle Center ed è il primo in Italia. Abbiamo preso spunto ovviamente guardando fuori da Dubai agli Stati Uniti, dove questi progetti sono già impediti da tanti anni e significa creare qualcosa in cui tutti i componenti della famiglia possono praticare le proprie passioni. Quindi andiamo dallo shopping al tempo libero, all'intrattenimento con lo sport per i piccoli, per i grandi, abbiamo un cartodromo, un dog park, quindi anche per gli amici a quattro zampe. Veramente un mondo completo di attività che si possono praticare durante tutta la settimana. Si apre il 6 settembre l'inaugurazione. Sì, data fissata, 6 settembre, l'orario non è ancora stabilito ma sicuramente il pomeriggio, aperto a tutti, vi aspettiamo.